salve a tutti sono alessandro saracino e questo è pisa in tv questa sera per la rubrica musicale abbiamo con noi giuseppe in arte l'ultimo dei miei cari buonasera giuseppe ciao alessandro buonasera giuseppe è un cantautore salernitano trasferitosi a pisa ormai da svariati anni bene giuseppe parlaci un po di te del tuo percorso musicale di quello che fai allora io iniziato a suonare la chitarra da bambino avevo dieci anni grazie alla musica rock dei pink floyd principalmente agli assoli di david gilmour mi sono proprio appassionato alla chitarra elettrica poi ho suonato in vari gruppi e progetti rock per qualche anno e ormai da quattro anni ha iniziato a scrivere canzoni diverse cioè più leggere e mi sono avvicinato molto all'indie benissimo mi dicevi prima della puntata che stai lavorando un progetto ora che si chiama appunto l'ultimo dei miei cari parlaci un po di questo progetto di quello che vuoi esprimere di come è nato magari all'ultimo dei miei cari è un progetto indie acustico è nato da un periodo molto particolare della mia vita era un periodo in cui mi sentivo molto giù molto triste e ho iniziato a scrivere dei testi completamente diversi da quelli che facevo prima e questo progetto l'ho creato proprio per trasmettere quelle sensazioni al pubblico che mi ascolta benissimo mi dicevi che precedentemente e anche attualmente ai dei rapporti di collaborazione con altri gruppi musicali come fai a coniugare nella tua vita personale tutti i giorni l'avvento di questo progetto molto impegnativo da solista con tutto il lavoro che fai per i gruppi allora io sono il bassista di un'altra band chiamata dna che saluto e parte che di base se hai una grande passione per la musica puoi fare tutto il tempo si trova se riesci a a dire faccio questo è perché ami fare questo c'è nessuno mi obbliga nessuno ti obbliga a fare questo lo fai semplicemente perché ami ami la musica io faccio così certo certo traspare fortemente la passione ma ti volevo chiedere tu hai parlato di vin floyd di david gilmore appunto grandi ispirazioni per tema una domanda più specifica nella scena indi italiana se c'è qualcuno oggi che ti ispira a cui magari appunto ti ispiri per per la tua carriera musicale si principalmente sono due le figure che amo nell'indie fra quintale per i testi e i ministri più belle parti musicali i testi di fra quintale riescono a dare un senso cioè in tre minuti di canzone riescono a dare tutto quello che fra quintale trasmetta anche nei live quindi un senso quasi di nostalgia di malinconia e lo riesce a trasmettere in maniera leggera quindi non è non trasmette un pensiero pesante una cosa dura ecco i ministri scusami i ministri uguale perché hanno delle canzoni molto rock molto forti e quindi ogni concerto loro è una bomba c'è davvero certo certo abbiamo anche dei gusti in comune volevo chiederti la musica indi nella musica indi appunto la corona portante si può dire essere il testo vero si principalmente si cosa vuoi esprimere con i tuoi testi cioè cosa vuoi portare ai tuoi ascoltatori allora voglio far rivivere le sensazioni e i momenti che ho vissuto io in quel periodo che ti dicevo prima quel periodo dove è nato tutto dove è nata l'idea di questo progetto mi piace che le persone possano immergersi in quelle canzoni e rivivere un po della propria vita ecco un po come tutti nulla di diverso ecco capisco abbiamo parlato dei due progetti del tuo passato e di quello che vorresti essere il tuo futuro ma nello specifico qual è il sogno del cassetto di giuseppe principalmente ne ho due uno c'è il sogno più grande quello di arrivare o meglio ancora di vincere il premio tenco il secondo è quello di suonare da in uno stadio sembra cosa bellissima hai delle ambizioni molto importanti c'è tutti buona fortuna e siamo arrivati alla fine di questa intervista ringraziamo giuseppe in arte l'ultimo dei miei cari grazie a te e voglio ricordare al pubblico che se volete seguire giuseppe lo potete trovare su instagram appunto con il nome l'ultimo dei miei cari oppure potete trovare le sue canzoni su spotify vi ringrazio al prossimo appuntamento ciao 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 ciao